Ciao, sono Marco Doria e oggi ti racconterò la straordinaria vita di Marilyn Monroe. E come sappiamo Marilyn ha dato tantissimo da parlare. C'è chi l'ha definita una santa, c'è chi l'ha definita una donna di facili costumi. Ma in realtà Marilyn era semplicemente un mix tra sensualità, erotismo e bellezza. Ha fatto sicuramente una vita che possiamo definire piena di successi. Ha sofferto molto, ha subito degli scandali, ha dovuto affrontare delle lotte e ha subito molti cedimenti. Però in tutto questo è la star hollywoodiana più iconica di tutti i tempi. È stata un'attrice, una cantante, una modella. È stata invidiata ma anche criticata. E soprattutto è mulata, perché ancora oggi, a quasi a distanza di un secolo dalla sua morte, è un personaggio che è tuttora nella bocca delle persone. E ha avuto un tal successo nella sua vita che la gente addirittura pensava che avesse fatto un patto con il diavolo per aver raggiunto la vetta. Infatti lei ha avuto tutto in sostanza. Bellezza, stile, carisma, ricchezza. Insomma, ha raggiunto l'immortalità nella mente delle persone. Però quello che pochi dicono di questa ragazza, di questa donna, è che in contrapposizione è stata anche una persona molto sofferente, sia a livello fisico che a livello emotivo. Ha dovuto convivere per tutta la sua vita con dei disturbi psichici molto gravi e ha subito un sacco di violenze. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi cinematografici ed è stata innumerevoli volte candidata a premi importanti. È nominata a sesta, per esempio, tra le più grandi star femminili di tutti i tempi e tra le 100 donne più attraenti di tutti i tempi. Ma quello che la rende unica è che la sua vulnerabilità, la sua straordinarietà e la sua sofferenza la avvolgono da un alone di mistero che attrae tantissimo la curiosità delle persone. Esattamente poi come le circostanze della sua morte, che, insomma, sappiamo essere avvenuta a 36 anni. Ma ora vediamo come è diventata il simbolo di un'intera industria. Primo giugno 1926, Norma Jane Baker Mortenson nasce a Los Angeles, in California. La madre, invece, Gladys Peerle Monroe, non è stata quella che possiamo definire una madre modello. È stata inaffidabile, incapace assolutamente di prendersi cura di questa bambina. Era una donna che soffriva di schizofrenia paranoide, quindi possiamo immaginare una persona che entra e esce dagli ospedali psichiatrici. E si dice che facesse anche uso di sostanze e alcol. Insomma, era anche una persona che non aveva un soldo, era il verde. Una persona inaffidabile, appunto. E nessuno sapeva assolutamente chi fosse il padre. È sempre stato un mistero. Qualcuno sostiene che fosse un collega della madre, qualcun altro che fosse il secondo marito dal quale si è separata appena è rimasta incinta, e altri che fosse il cognato Jack Baker, il fratello del primo marito, insomma, un garbuglio. Ma qualcun altro, pensato un po', addirittura ipotizza che sia stata figlia di uno stupro. Questa situazione, ovviamente familiare e disastrosa di partenza, la totale assenza di affetto, avranno un impatto molto nocivo, che durerà per tutta la vita di Marilyn. Cioè, insomma, ragazzi, già si parte male dall'inizio. E difatti la madre pensa subito di affidarla a qualcuno, proprio all'inizio, appena finito lo svezzamento, diciamo. E la dà a una coppia religiosa che se ne occupava in cambio di denaro. Poi se la riprende, ma poi la ridà di nuovo via e la affida a una coppia di inglesi, che in cambio di soldi, chiaramente, guardavano, gli crescevano la figlia. Ma la madre ha un'intuizione e dice, sentite, signori, ma se con la figlia vengo anch'io a casa vostra, vi prendete anche cura di me? Ecco, insomma, questa situazione un po' strana non dura molto. Infatti, la madre viene dichiarata incapace di intendere volere e la piccola viene spedita diretta ai servizi sociali. E quindi, dal 1936, quando Marilyn, ovvero Norma, aveva nove anni, comincia a vivere nelle case famiglie. Quindi gira tra orfanotrofi, coppie affidatari, eccetera, eccetera. Insomma, un'infanzia disastrosa. Di fatti, non facendocela più a fare questa vita, ma cercando una stabilità sia emotiva che concreta, a 16 anni, nel 1942, si sposa con James Dougherty. Conosciuto un anno prima, quindi una cosa molto fresca, ma sappiamo che l'ha fatto per sfuggire a quelli che erano i servizi sociali, per cercare di costruirsi qualcosa. Siamo nel dicembre del 1942, Stati Uniti e Giappone entrano in guerra e il marito di Marilyn si arruola nei Marines. Nel frattempo, però, lei trova lavoro in una fabbrica di aeroplani e paracaduti. È il 1945, lei ha 19 anni, è un fotografo, un certo David Conover, ma in fabbrica per fare un servizio fotografico alle ragazze per la rivista Yank, che doveva essere una rivista che doveva tirare sul morale dei ragazzi al fronte, quindi cercava qualche bella ragazza da fotografare, e che fa? Vede Marilyn e le chiede di scattare una foto. E lei dice sì. Ecco, questa sarà la sua prima immagine pubblica, ed è anche l'inizio della sua carriera da modella. Chiaro, da qui alla fabbrica a diventare Marilyn Monroe dovrà fare molte cose, però intanto comincia a prendersi il suo primo titolo, ovvero è stata eletta Miss Lanciafiamme, che in sostanza era il nome della fabbrica. Chiaramente il marito va su tutte le furie, anche perché non è possibile che in quegli anni una donna o una moglie si metta a fare le foto. Lui è molto geloso, è limitato mentalmente, e che ha le sue idee convenzionali, e vuole che Marilyn sia una casalinga. E diventa anche aggressivo. Ma, sebbene Marilyn provasse affetto per lui, lei vuole lavorare, vuole avere una sua indipendenza, vuole realizzarsi, guadagnare, desidera anche avere successo. E quindi l'unica cosa da fare è un atto di coraggio, è divorziare dal marito. E ovviamente iniziare a lavorare come modella. In quel periodo è stato veramente una cosa, un passo coraggioso, in quanto le donne erano viste solo come sfornatrici di figli e casalinghe. Dovevano essere dipendenti emotivamente e devote al marito. Per fortuna Marilyn fa un'eccezione. La sua voglia di indipendenza è chiaramente molto più grande di queste convinzioni sociali. Quindi nello stesso anno riesce a firmare il suo primo contratto cinematografico, che durava sei mesi e gli dava un compenso di 125 dollari a settimana. E qua arriviamo a un gesto che farà sì che la sua carriera possa decollare. Ovvero, prende la tinta e si fa bionda. Era castana prima. Il colore dei suoi capelli è, diciamo, fondamentale per consacrare quella che sarà l'immagine dell'icona sexy e seducente. Però possiamo dire che è stata anche un po' la risposta alle prime pressioni dell'industria cinematografica dell'epoca, che pretende, diciamo, che ci si adatti agli standard glamour e a quegli stereotipi di genere di cui tutti sappiamo faceva parte la popolazione in quel momento. Quindi per fare quel mestiere dovevi essere bionda e formosa. E questa chiaramente è un'arma a doppio taglio per una persona come lei che soffriva di scarsa autostima. Chiaramente per cercare di essere accettata doveva adeguarsi, ma nel contempo sapeva che lei stessa, come era naturalmente, non era abbastanza. E questa cosa la tormenterà per tutta la sua vita. Però adesso siamo arrivati al momento che, ok, i capelli li abbiamo fatti, dobbiamo darci un nome d'arte. Così nel 1947, all'età di 21 anni, diventa Marilyn Monroe. Fermati un attimo. Ma pensa se Marilyn, invece che fare l'attrice, avesse fatto il programmatore web. Beh, all'epoca non si sapeva ancora molto di programmazione. Ma oggi, invece, siamo perfettamente esperti di questa materia. Soprattutto noi in Accademia Code, che ti diamo la possibilità di diventare un programmatore full stack in nove mesi, senza obbligo di frequenza. Se ti interessa questa professione, una delle professioni più richieste del 2023, beh, clicca il link in descrizione e iscriviti. E così comincia ad avere successo come modello. Tant'è che nel 1949, Marilyn, che era già abbastanza e discretamente famosa, accetta di fare una cosa che non era consueta per quei tempi. Ovvero, fa una foto nuda. Cioè, nella foto non è completamente visibile il suo corpo. È abbastanza casta. Ma per quel periodo è un grande scandalo. Cioè, ricordiamoci che le donne, nel dopoguerra, erano sempre sfornatrice di figli. E lei, con tutta nonchalance, a queste critiche, sapete cosa rispose? «Questi soldi mi servono per pagare l'affitto retrato di quattro mesi». Proprio non gliene fregava niente. È andata comunque sempre avanti per la sua strada. Nel 1950, all'età di 24 anni, ottiene il suo primo ruolo di rilievo nell'industria cinematografica, nel film Giungle d'Asfalto. E insieme al film Eva contro Eva, viene consacrata al successo del grande pubblico. Quindi sembrerebbe che comunque adesso le cose stiano andando bene. assolutamente no. Nello stesso anno, entra in terapia psicoanalitica per cercare di combattere quel conflitto interno, l'ansia e la depressione e soprattutto la dipendenza da farmaci che aveva per cercare di stare tranquilla e di poter fare le cose normali che fanno gli altri, stare in società, lavorare, eccetera. Era già molto tormentata. E lei però non si è fermata. La sua carriera comunque continuava. Nel 1952 raggiunge anche la fama internazionale con il film Niagara, un film molto importante che fa sì che si comincia a parlare sempre di più di questa Marilyn Monroe, tant'è che nel 1953 appare anche sulla copertina del primo numero di Playboy. Nello stesso anno, recita nel film Gli uomini preferiscono le bionde e ottiene anche un grande successo con la canzone Diamonds Are a Girl's Best Friend, la colonna sonora del film. Marilyn diventa famosissima. famosissima. Nel 1954 vince il premio Henrietta Award come miglior attrice del mondo. Immaginiamoci dove è arrivata questa ragazza. Quindi possiamo immaginarci la diva Marilyn, cosa poteva vivere in quel periodo, forti pressioni chiaramente dall'industria cinematografica, e anche una vita privata abbastanza dura in quanto soffriva, prendeva psicofarmaci ed era sola. E cosa cerca di fare nello stesso anno? Marilyn si sposa per la seconda volta. E con chi? Con la leggenda del baseball Joe Di Maggio. La relazione, come sappiamo, è conflittuale. Lui era violento, era cattivo. E lei comunque in questa situazione continua, anzi aumenta l'abuso dei farmaci. Questa relazione per fortuna dura solo nove mesi, ma da quel momento avrà una vita sentimentale turbolenta. Ma nella sua carriera Marilyn è assolutamente in vetta. Nel 1955 recita nel film Quando la moglie è in vacanza. Pensate un po' che questo film la rese ancora più famosa in quanto c'era quella scena famosissima del vestito che si alza sopra la grata dell'aria. Una sola scena è rimasta iconica in tutti questi anni. Nel 1956 si sposa di nuovo perché non ne aveva abbastanza la povera Marilyn e quindi va con l'autore drammaturgo Arthur Miller. Il matrimonio questa volta fortunatamente dura almeno cinque anni. Poi finisce sempre per lo stesso motivo conflitti pressioni fama insomma la vita di Marilyn poteva sembrare un paradiso ma era un grande inferno. Comunque lei continua a guadagnare candidature continua a guadagnare premi nel 1957 viene candidata al Golden Globe come migliore attrice del film fermata da autobus e nel 1958 Davide Donatello assegnata la targa d'oro per il principe e la ballerina. E poi non era solo un'attrice ma era anche una cantante infatti le sue canzoni I Wanna Be Loved By You o My Heart Belongs To Daddy caratterizzano la sua voce dolce sensuale che è proprio coerente con l'immagine sexy e il suo fascino magnetico. E nel 1960 prende un altro Golden Globe come migliore attrice in un film a qualcuno piace caldo è continuo continua a lavorare è un successo dietro l'altro nel 1961 esce gli spostati ma questa purtroppo sarà la sua ultima apparizione sul grande schermo. L'anno dopo nel 1962 vince di nuovo un Henrietta Awards come migliore attrice del mondo e sempre quell'anno il 19 maggio canta Happy Birthday Mr. President a ovviamente John Kennedy ovviamente per il compleanno del presidente è un momento che possiamo definire indimenticabile per la storia popolare americana tutti sanno di quel momento e ovviamente si comincia anche a parlare della relazione tra Marilyn e Kennedy quindi una carriera di successo conoscenze importanti ma purtroppo il 5 agosto sempre dello stesso anno a 36 anni compiuti da due mesi Marilyn muore muore a Brentwood a Los Angeles è ufficialmente morta per un'overdose accidentale di barbiturici viene archiviato il caso come probabile suicidio ma chiaramente è scattato il mistero quindi ci sono state molte speculazioni e controversie riguardo alle circostanze esatte della sua morte suicidio omicidio complotto eccetera quel che sappiamo è quello che è rimasto per citare Marlene Dietrich lei disse Marilyn è come la madonna e la puttana combinati in un unico corpo proprio a suggello della dualità e della complessità della personalità di questa ragazza un connubio di bellezza angelica e oggetto sessuale e forse anche il riflesso del conflitto interiore che aveva questa ragazza la vita di Marilyn Monroe è stata caratterizzata da un mix di successo e tragedia e la sua eredità rimane ancora oggi un simbolo duraturo dell'età dell'oro di Hollywood e in un perenne stato di conflitto interiore in sicurezza comunque ha sempre lottato contro gli abusi e gli stereotipi di quella figura femminile dell'America degli anni 50 e chiaramente contro l'industria dello spettacolo sforzandosi con tutta se stessa di adattarsi alle pressioni estetiche e comportamentali di quel maledetto settore e allo stesso tempo di dimostrare le sue abilità artistiche il suo talento contro chi la sminuiva come un mero oggetto sessuale chiaramente all'epoca non c'erano i sostenitori del Me Too e i rappresentanti del femminismo ha dovuto far tutto da sola era un settore veramente complesso la certezza però che abbiamo è che questa boldenabilità insicurezza talento instabilità pressioni segreti lotti abusi hanno fatto sì che lei diventasse una leggenda che cosa ci insegna questa storia beh Marilyn è un personaggio complesso un personaggio che ha sofferto molto e anche in questo caso però come abbiamo visto con tutti gli altri personaggi non ha mollato è andato avanti lo stesso nonostante le pressioni nonostante fosse meramente identificato come un oggetto sessuale voleva dimostrare il suo talento e questo ha creato un mix di cose strane per cui è diventata una diva famosissima e misteriosa se questo video ti è piaciuto mi raccomando solito like solito commento e ci vediamo nel prossimo video ciao